Questo è il centro commerciale Sidicinum, siamo al 5 giugno 2019 e il centro commerciale è praticamente un fantasma, guardate fantasma, sono tutti negozi chiusi, ma accessibili, vedete c'è un accesso facile, eccolo qui, questo è il centro commerciale Sidicinum a Teano in provincia di Caserta, il famoso centro commerciale con la chiesa all'interno, guardate è tutto in abbandono completamente, tutto abbandonato, ma il centro commerciale è aperto, guardate non c'è nessuno, nessuno, tutto aperto, tutto in abbandono, addirittura c'è un forno lì in fondo abbandonato, spettrale, ma comunque rimane aperto al pubblico, qui ci sono dei vestiti, ma sappiamo se, ecco c'è un negozio aperto con dei vestiti che escono fuori, eccoli qui, non c'è nessuno, possiamo parlare anche a bassa voce, si sente comunque, lì c'è qualche negozio aperto, proviamo a fare una vigilia d'insieme, i manichini, i manichini sono praticamente tutti quanti nudi, non hanno vestiti addosso, perché evidentemente non c'è niente, ma guardate in fondo, sporcizia, tutto abbandonato, questo è un centro commerciale ancora attivo, guardate le vetrine, le vetrine hanno addirittura manichini senza più nulla addosso, è tutto chiuso, qui che c'è scritto, vediamo, è chiuso anche questo, dicono prossima apertura, è tutto abbandonato, addirittura lì è una galleria al buio, senza tempo,